Senti Giuseppe, tu hai detto all'inizio del programma, quando hai incominciato una relazione con Beatrice, fuori di qua ti voglio portare a tropea a fare l'amore sugli scogli. Adesso tu, finito il grande fratello, dove porterai Beatrice, se la porterai da qualche parte? A tropea su due scogli, non su uno solo. Pensa, come sono fortunata. No vabbè, veramente. Sono fortunata, che regina. Prima le faccio vedere uno solo, ma se fossi al posto mio, come risponderesti a Giuseppe? No, ci penso io, direi, al posto tuo. Sei geloso Alfonso? Direi che penso io. È abbastanza, abbastanza. Devi passare sul mio corpo, Giuseppe.